Allora, et omnes vie tue, via. Lecce, Signor, Iisus, via, in eternum, nu est. Cominciamo da inizio, da inizio, seconda riga. Ecco lì, il Co, è troppo forte. E si sente inizio, esagerato. Tieni un po' più su, precedentemente. C'è quel colpo lì. Iii, 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 o, to. Iii, iii, o, iii, o, iii, o, iii, o, iii, o, iii. Potremmo fare un meglio. quando abbiamo un incipit un incipit che fa va bene e in questo caso devo dire un po' così quindi e questo O che viene è isolato come un monaco nel deserto cioè attenzione no vogliamo fare un movimento ascendente ascendente cominciando da ecco tutto ascendente ma non a colpi vediamo va bene cosa e secondo me che si cioè si interrompe e non dovrebbe interrompere allora inizio è un mi va bene è come l'articolazione che da cui viene fuori il co questo mi va bene ma è quello che che volevo ottenere da inizio è staccato è staccato no e si sente inizio inizio esagerato via adesso facciamolo così facciamolo così in modo che sia crescendo ma non ascensione non ascensione ancora ci sono due attacchi inizio 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 co inizio co fermo adesso attenzione bisogna bisogna evitare evitare di fare i 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 allora ecce ecce stessa intensità non ecce ecce ancora meglio un po' di solito ecce 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 inizio inizio e c'è questo accento e c'è questo accento che non ci sta ancora ecco inizio 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 e poi se la faccia e poi se te la faccia inizio 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 allora qui sì il secondo